L'orrore Auschwitz, Birkenau, Oswiecim, Polonia, 24 agosto 2009 L'assenza di un sottofondo musicale costituisce una scelta stilistica finalizzata ad esaltare il valore abberrante dell'impensabile concetto di sterminio di massa di una popolazione E' questo però un delitto che, nonostante l'orrendo esempio testimoniato dai Lager si è più volte ripetuto nel corso della storia fino ai nostri giorni Questo video è stato girato il 24 agosto dell'anno 2009 varie volte ho tentato di trasformarlo in un filmato ed ogni volta mi sono dovuto arrendere davanti all'impossibilità di rappresentare visivamente le potenti sensazioni che questi luoghi mi hanno suscitato Grazie 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 Ancora oggi, a distanza di quattro anni dalla visita ad Auschwitz-Birkenau è molto difficile per me e credo per tutti comprendere come l'uomo abbia solo potuto pensare a un simile progetto di lucida e irrazionale follia Credo però che davanti a queste immagini si possa rispondere alla domanda come nascono i Lager utilizzando le parole di Primo Levi facendo finta di niente Grido di disperazione ed ammonimento all'umanità sia per sempre questo luogo dove i nazisti uccisero circa un milione e mezzo di uomini, donne e bambini principalmente ebrei da vari paesi d'Europa Grazie 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 Grazie